Buonasera amici Benvenuti a zona rosso-blu Brilla la stella rosso-blu Al purificato di fondi Un gol di Ciotana nel primo tempo E di Corrado nel secondo tempo Regalano la dodicesima vittoria ai Falchetti Una vittoria che mette a riparo la Casertana Perché con 43 punti in classifica 8 giornali dal termine Possiamo parlare già di salvezza Anche se ovviamente non c'è la certezza Ma più che di salvezza Da questo momento in poi Ripeto per le ultime 8 giornate La Casertana penserà a migliorare La posizione in zona playoff Parleremo della gara disputata a fondi Parleremo ovviamente della Casertana Più in generale con i nostri ospiti Questa sera abbiamo il piacere Di avere qui con noi un falchetto doc Anche se non è Casertano Ma un Casertano di adozione Per chi ha indossato la casacca rosso-blu Ed è stato anche sulla panchina della Casertana E parlo di Enzo Feola Ciao, buonasera a tutti E con noi c'è il fotografo Peppe Scialla Buonasera In attesa ovviamente aspettavamo Pasquale Gallo Che è in arrivo Quindi quando sarà arrivato qui Pasquale Gallo Lo presenteremo Noi intanto iniziamo a parlare di questa vittoria Della Casertana a fondi Enzo, dicevamo Una Casertana che comunque Tra alti e bassi Ma sono più alti che bassi Sta disputando un campionato onorevole Una squadra nata Costruita per salvarsi Tra mille difficoltà Se pensiamo a quello Che è successo in estate Fino insomma a novembre Invece adesso parliamo di una Casertana Che sta dando delle grosse soddisfazioni ai propri difusi Beh, sicuramente la Casertana sta facendo non bene Sta facendo benissimo Per tutto quello che è successo Quello che è passato Il passaggio di proprietà Da tante difficoltà che stavano all'inizio Ecco, perciò sono stati bravi Lo staff, la squadra, tutti A stare molto uniti Per cercare di Nei momenti difficili Di stare tutti quanti insieme E dire male Tutti quanti verso la stessa direzione La cosa importante è che La Casertana abbia trovato Un grande assetto societale Che è la cosa più importante Perché con una grande società Alle spalle si possa Si può costruire Si possono arrivare A traguardi importanti Io sono convinto che Prima di costruire una squadra Bisogna costruire una società E penso che le persone Che compongono la società Con il Presidente D'Agostino Con tutti i suoi collaboratori Con il mister Materazzi Con lo stesso Aniello Martone Penso che siano Siano nella strada giusta E hanno intrapeso Secondo me Una strada importante E sicuramente faranno Qualcosa di importante Anche se non è facile Bisogna avere Sempre i piedi per terra Perché Caserta non è facile Caserta è una piazza Molto difficile Molto ambiziosa Molto Con situazioni Molto particolari Nel senso che Ti dà Ti dà tanto Ma ti toglie tanto Perché ti mette Una pressione addosso Che a volte Ti può complicare Un po' la vita Peppe Una vittoria di carattere Quella della Casertana Affondi Una vittoria Meritatissima Casertana Superlativa Ci è piaciuta anche Questa mossa Di avere Cisotti Veramente l'avevamo Già intravista La settimana prima Non è un 4-3-3 Quello adottato Da tedesco Ma a volte È un 4-3-1-2 Con Cisotti Che si alterna Appunto Con Ciotola Nel portarsi Qualche metro Più indietro Quindi è stata Poi tra l'altro Cisotti è increscendo Insomma Un calciatore Di cui si parlava Un gran bene Solo che a Casertana Si era visto poco Invece adesso Sta trovando La giusta collocazione Allora io Le note positive Di questa giornata Innanzitutto È stata Quello Il più La nota più bella È stata quella Di tedesco Tedesco Che a onor del vero Io pensavo Che Quest'anno Avremmo giocato Più o meno Come giocavamo Con Romaniello Invece lui Ha saputo Completamente Rivoluzionare Il gioco E riesce a trovare Delle soluzioni Che ogni volta Riescono poi A sbloccare L'incontro A nostro favore Le mosse Che Che ha messo In campo Io credo Che questa sia Innanzitutto La vittoria Del gruppo Perché la casertana Si dimostra Sempre più Gruppo E poi è stata La vittoria Di tedesco Su Pokesci Che Aveva Dal canto suo Un organico Ben più corazzato Di quello Dei rossoblue Il futuro Sapere Che chi ha operato Nel mercato Di riparazione Che forse qualcuno Aveva lasciato La mare in bocca Perché era Un mercato Di riparazione Volto sicuramente Al consolidamento Societario Dopo La situazione A dir poco Disastrosa Ereditata Dalla presidenza Aveva lasciato La mare in bocca Invece Invece A differenza Di quello Che era successo L'anno scorso Quando avevamo preso Mezza squadra nuova E questa squadra Non si è integrata Questi due Acquisti Mirati Sono arrivati Si sono inseriti Sembra che Come se avessero Sempre giocato Con Con questo gruppo Mi sono piaciuti Un po' Enzo Si parla Tanto di Giovani Peppe Accennava appunto Ai vari Cisotti Magnino Di Allocio Gli ultimi arrivati In casa Rosso-blu E che vanno Varolizzati Però Dobbiamo ancora una volta A sottolineare La superba prestazione Di Paolo Ginestra Un portiere Che spesso Si dice Il portiere Fa mezza squadra No Mai Come in queste occasioni Il termine Azzeccato Ancora una volta Ginestra Ha salvato La porta rosso-blu Con il Francavilla Secondo me Ginestra È stato determinante In alcuni interventi Ma la cosa principale E più importante È che Un portiere Di quel livello Ti dà una tranquillità Una sicurezza Non solo Alla squadra Ma non solo Al reparto Di difesa Ma a tutta la squadra Questa è una cosa Importantissima Quando tu hai la sicurezza Di un portiere Importante E bravo Come Ginestra La squadra È molto più tranquilla E gioco Con molta più scioltezza Perciò Penso che sia Un giocatore Importante Determinante Determinante Come tutti gli altri Enzo Possiamo parlare Di casertana operaia Dove non ci sono Prime donne Come magari Era capitato Nell'annata passata Che poi Come accennava Peppe Andò male Proprio perché C'erano troppe Prima donne Una casertana operaia In cui hanno trovato Giusta collocazione Calciatori Che sembravano Sul viale del tramonto Che sembravano Già lontani da caserta Faccio un solo nome E parlo di Nicola Ciotola Ciotola che Fino alla ventunesima Giornata di campionato Quindi parlo Fino a fine Dicembre Aveva otto presenze E zero reti Sembrava Già con la valigia in mano Poi invece Gioco forza E rimasto a caserta Dalla ventiduesima giornata E quindi dal 22 gennaio Ad oggi Ciotola ha disputato Nove partite Di cui Otto da titolare E realizzato Già tre gol Il discorso è un pochino Più ampio Come nel calcio Come nella vita Bisogna avere la fortuna Di incontrare Soprattutto gli uomini Uomini veri E penso che la casertana Abbia trovato Un gruppo Un gruppo unito Un gruppo Di giovani Misti con Qualche esperto Che hanno cercato Un pochino Di trainare Un pochino Il gruppo Io Faccio complimenti Allo staff Tecnico Alla società Ai direttori Che hanno scelto Questi giocatori Che hanno Sostenuto Hanno sostenuto Nei momenti difficili Sia la squadra Che lo staff E hanno avuto ragione Nel calcio bisogna avere Avere grosse conoscenze Grosse competenze Ma soprattutto Grande equilibrio Soprattutto nei momenti Particolari Che Parliamoci cari I momenti particolari I momenti Delicati I momenti difficili Vengono sempre Per tutti Bisogna saperli gestire Ed essere bravi Nel capire Che in alcune situazioni Bisogna andare Con molta Tranquillità Perciò Io penso che La Casertana Sia una buona squadra Oggi Gioca con molta Semplicità Con molta scioltezza Perché Non ha Quell'assillo E quella pressione Che deve vincere Che deve fare risultato A tutti i costi Oggi come oggi È importante Soprattutto Ripeto Per una piazza Così difficile Come Caserta Avere Quella Tranquillità Del risultato Ma soprattutto Quella tranquillità Della società Che ti permette Di lavorare Con serenità Eppure Peppe La partita dei fondi Non era delle più semplici Ricordo che Il fondi In casa Aveva perso Solo con Cosenza e Dandre Parliamo Dell'anno Dell'anno scorso Mentre la casertana Veniva da due Settimane Non certo brillante La sconfitta 3-0 A Reggio Calabria Con la Regina E lo 0-0 Interno Con il Messino Invece È stata la pronta Disposta Della casertana Quando meno Te lo aspetti Ecco che la casertana Risorge Parlavamo Tu ne accennavi Di tedesco Quindi noi da un po' Di tempo Stiamo dando Merito Al lavoro Al grande lavoro Svolto Da tedesco Che comunque È un giovanissimo Allora Io avevo visto Il fondi In occasione Della partita Con il Taranto Giocata Sempre al purificato E non mi aveva Assolutamente Entusiasmato Perché Il Taranto La partita L'aveva fatta lui Forse Avrebbe meritato Aveva meritato Anche qualcosina In più Rispetto Al risultato Di uno a uno Mi aspettavo A onor del vero Una buona prestazione Della casertana Perché come tutte Le formazioni Che vanno Ad attaccare La casertana Rischiano poi Di essere Trafitte In controviete E io Sempre parlando Di grandi uomini Di persone Che stanno facendo Grande Questa squadra Non dobbiamo Dimenticare Due persone Su tutte Che io Il rammarico Di non averle avute L'anno scorso Nel momento clou A Caserta Che sono Dalterio E Racic Che hanno Veramente Quest'anno Preso per mano Questi ragazzi E gli stanno Anche dando Quella dose Di esperienza E oggi La casertana Ha finalmente Un vantaggio Un vantaggio Di essere salva La quota salvezza Dell'anno scorso Era proprio quella Raggiunta adesso Dalla casertana Che può vantare Una società Solida Può vantare La tranquillità Che Delle squadre Già salve E vi ricordo Che l'ultima volta Che era successa Una cosa del genere Che la squadra Aveva già raggiunto Questi obiettivi In primavera Dobbiamo Scavare fino Al campionato Di eccellenza Che il signore Qui alla mia destra Ci portò a vincere Già dal mese Di febbraio Quando già Sapevamo Di disputare Poi il campionato Di serie D L'anno prossimo Intanto ci fermiamo Ci fermiamo qualche secondo Giusto per presentare Pasquale Gallo Di tutto casertana.it Arrivato con un po' di ritardo Pasquale C'è una motivazione Giustificazione Da firmare Circo il tutto Ero con Antonio Papali In redazione Per delle notizie Fatto un po' più tardi Buonasera Ok allora Pasquale Stavamo parlando ovviamente Della partita Di fondi Di questa brillante Prestazione Della casertana Tre punti d'oro Che hanno In un certo senso Consentito La casertana Non c'è la matematica Certezza Della salvezza Però Insomma Con quota 43 Si può stare tranquilli Insomma Si pensava che Attorno ai 41 42 punti Fosse questo il limite Per salvarsi La casertana Già ne ha 43 E mancano ancora 8 giornate Al termine Io ricordo Dall'altro Che la casertana Aveva chiuso Se non sbaglio Il girone di andata Con 22 punti Se non erro Quindi In 19 partite Ne aveva fatti 22 di punti Adesso che ne mancano 8 Già ce n'ha 23 Quindi Un girone di ritorno Strepitoso Se non sbaglio Di meglio Nel girone di ritorno Ha fatto solo il Foggia Si no Almeno Tornando Tornando alla gara Di sabato Cioè la casertana Ha fatto la sua partita E ho visto la casertana Quella che tutti Un po' ci aspettavamo Quello che non mi aspettavo Era di vedere Quel Fondi Perché In casa Un campo piccolino Un campo trappola Tipo quello di Francavilla Appena entrato Ho detto Non c'erano I tifosi Di Francavilla Non c'era Quel calore Che si sente Forse in quel campo Però Con una squadra Era attrezzata Come quella del Fondi Su un campo amico Non c'era Zolao Che C'era anche nell'ultima partita Comunque ha perso E' stato anche espulso Il Melfi Che fa questi espluoli Improvviso Poi il mister ci spiegherà Che ha più esperienza Come queste squadre Improvvisamente Fanno punti a raffica Però Sono rimasto un po' Deluso dal Fondi Sinceramente Giannone L'ho visto molto bene Ha giocato solo Il primo tempo L'ho visto molto bene Ha messo tantissime palle Al centro Però Non c'era nessuno Che poteva Far paura La casertana A differenza di Forse quello che faceva Di più a caserta Qualche conclusione Da fuori Che non ha mai Non ha mai fatto Non mi aspettavo La sostituzione Poi C'è stato il cambio È entrato Gambino Nella ripresa Però La casertana Ha fatto la sua partita Quella che un po' Ci aspettavamo E forse gli equilibri Li ha spostati un poco Orlando Perché è stata forse La sostituzione Che ha dato Quel quick in più Alla casertana Perché poi Il secondo gol Io gliel'ho detto Negli spogliatori È tutto merito tuo Perché Ha recuperato palla in difesa Dopo lo scambio A centro campo Ha riavuto il pallone L'ha messo al centro E poi per Corato È stato semplice realizzare Mosse azzeccate Quindi da parte Di Tedesco Che oltre Ad aver indovinato L'undici iniziale Anche le sostituzioni A questo punto Visto che Orlando È stato determinante Insomma diciamo Nel gol di Corato Abbiamo parlato Abbiamo parlato anche La settimana scorsa Bella completa Però per me la casertana È già salva Al di là della matematica Quindi Vorrei vedere Una squadra Un po' più arrembante Vorrei vedere Che ne so Orlando E Corato Insieme dal primo minuto Però poi Torniamo sempre Al solito discorso Di questa coperta Curta Perché poi Quando forse Questa squadra C'è numericamente Ma forse Non c'è Quella grande qualità Che hanno forse Le altre squadre E quindi Forse se tu Ti sbilanci troppo in avanti Poi rischi troppo indietro Enzo Tu da allenatore Quando hai a disposizione Tanto materiale Anche di qualità Pensi di essere Avvantaggiato O magari può crearti Qualche problema Nel senso Adesso ti desco Parliamo Come accennava Pasquale Del reparto avanzato Adesso possono giocare Corato Ciotola Lo stessorlando Così come i cisotti È difficile Tenerne fuori qualcuno Per un allenatore Avete tanta qualità Tanti uomini Di qualità A disposizione Può essere Il difficoltoso Poi nella gestione O magari un allenatore Contento Che può scegliere Anche con serenità Il meglio Non scherziamo Io preferisco Sempre avere Tanta abbondanza Perché hai tante soluzioni Hai tante situazioni Soprattutto poi Durante la settimana E in partita Di poter cambiare Di vedere A volte ci sono tante situazioni Che nel calcio Che non puoi prevedere Perciò Più umano Più gente Forte Di qualità A livello tecnico A livello umano Hai Più possibilità Hai Poi nel gestire Non è da tutti Saper gestire Alcune situazioni Perché Se no Il calcio Sembrerebbe Troppo semplice Io penso Io penso che Nel gestire Oggi come oggi Gli allenatori Sono tutti bravi Perché Veniamo da una scuola Italiana Molto preparata Con internet Con gli studi Con Ecco Con tutte queste situazioni Siamo tutti Allenatori preparati La cosa più importante Secondo me Oggi È la lettura Della partita La gestione Del gruppo Sono le cose Sono le cose Fondamentali Però Ripeto È importante È importante Saper gestire Io Da parte mia Fa molto più piacere Avere a disposizione Più giocatori Da poter scegliere Ma soprattutto Di metterli in competizione Perché così Hanno uno stimolo In più Negli allenamenti Un conto Sapere di sicuro Che devono giocare Perché Sei obbligati Nelle scelte È un conto Avere Tante situazioni Tante scelte Tante possibilità Di poter adottare Durante la partita E durante gli allenamenti Enzo Tedesco Ha sempre Predicato Umiltà E ancora adesso Che La salvezza Insomma Sembra quasi fatta Quindi I tifosi Ma lo stesso staff Dirigenziale Pensa già A un qualcosa in più E quindi Ai playoff Insomma Ha voluto spegnere Gli entusiasmi Dicendo Ragazzi Calmatevi Non abbiamo ancora La matematica Certezza di essere salvi No vabbè Non scherziamo Il problema è che La casettana è già salva Per due motivi Uno perché L'ha conquistato sul campo Meditatamente Due Perché non penso Che le altre Possano arrivare A 43 punti Perché Il campionato È molto Sì è molto livellato Però Penso che Le 5-6 squadre Che stanno lottando Per salvarsi Sono quelle là Cioè oramai Il campionato È delineato Il Lecce e Foggia Lotteranno Per vincere Matera e Giusebia Si giocheranno Il terzo posto Poi tutto il resto Penso che C'è un equilibrio Un equilibrio Totale Oggi Oggi Penso che la casettana Deve Un pochino Pure rischiare Di più Perché Oggi Salva Può arrivare Ed ambire Sicuramente Con l'entusiasmo Che c'è Da parte della squadra Dello staff Di tutti Ma soprattutto Della gente Di arrivare Il più in alto Possibile E poi Non dimentichiamoci Che i playoff Sono un terno all'otto Tutto può succedere Non sta scritto Da nessuna parte Che la squadra Più forte vince Nei playoff Bisogna arrivarci Con una condizione Fisico-mentale Buona E poi Giocarsi Perché poi In una partita Può succedere Può succedere Di tutto Perciò Io sono Convinto Che la casettana Abbia L'ho detto anche In tempi non sospetti Se la poteva giocare Se la poteva giocare Per arrivare Insieme a quelle Tre o quattro squadre Nel migliorare Soprattutto La classifica Peppe Abbiamo ascoltato ieri Le dichiarazioni Del presidente D'Agostino Ovviamente D'Agostino adesso Vola sulle ali Dell'entusiasmo Lui è arrivato Ha trovato Una situazione Molto molto complicata A livello societario Ha dovuto sborsare Un bel po' Di soldoni Quindi era Impegnato mentalmente Diciamo In queste situazioni E ha pensato Poco Al rettangolo di gioco Invece adesso Piano piano Insomma Ecco Ragiona Un po' più Con tranquillità Tra l'altro Le ha detto Noi Il nostro campionato L'abbiamo vinto L'abbiamo già vinto E lui si riferisce Ovviamente Al risanamento Della società A Caserta Si sta ripetendo Perché già in passato Era successo Qualche volta Un miracolo sportivo Purtroppo Molti tifosi Non se ne rendono conto Quando contestano Quando Caserta Era destinata A un A un'amara Un'amara situazione Inizio anno Poi Vedi perché Nel calcio Bisogna sempre osare Può succedere Sempre qualcosa È arrivato D'Agostino D'Agostino Non ha avuto paura A fare Determinate scelte Perché Mica è facile A dire Carlini Vattene A dire Giannone Vabbè Te ne puoi andare Chi non vuole star Se ne puoi andare Lui ha sempre avuto La cosa Chi non vuole Quella è la porta Se ne può andare Non è facile Decide E soprattutto Fino a oggi Non abbiamo mai trovato Qualcuno Che mette Mano al portafoglio Ogni volta Che si Si presentano Queste situazioni Che oramai Sfiorano veramente Il grottesco Oggi Credo che La sfida Di questo presidente Sia Il terreno di gioco Perché il terreno di gioco Rappresenta La possibilità Di avere Un settore giovanile A Caserta Che è la cosa Più importante Perché noi Il settore giovanile Un settore giovanile Vero Dobbiamo arrivare Fino ai tempi di Cuccaro Per trovare Il settore giovanile All'altezza E poi Soprattutto C'è bisogno Di programmare Per poter programmare Bisogna sapere Di che morte Bisogna morire Perché Adesso sì I playoff Sarà anche difficile Farli Perché In questo momento Abbiamo squadre Che Avranno Lo stesso Cosenza Che può sembrare Una partita Alla portata Della Casertana Si presenta a Caserta In una situazione Veramente drammatica È la prima volta Che è stato contestato A Cosenza Il nuovo presidente La Casertana Dovrà andare A Castellammare Con il Castellammare In una situazione Veramente brutta Dovrà giocare Con il Foggio In gara Scusami È vero Di andare Di giocare Con il Foggio In gara Però giocare Senza l'assillo Del risultato E giocare senza L'assillo Del risultato Uno gioca Spensierato Gioca tranquillo È tutto a carico Del Foggio La pressione È tutto a carico Del Foggio Della USA La Casertana Il suo campionato Già l'ha vinto Secondo me L'ha vinto La proprietà Facendo una società Risanando tutti I debiti E tutto E quello è stato Il campionato Vincente Quello di risanare La società Avere una società Forte Sana E la dimostrazione L'ha avuta La squadra E quando la società Ha risanato Tutti i debiti Ha risanato Tutti i problemi E sta costruendo Qualcosa di importante La squadra Non ha trovato beneficio Allora Da questo La squadra Ne troverà ancora Di più beneficio A salvezza ottenuta Questo significa Che chi giocherà Contro la Casertana Troverà una squadra Garibaldina Sbarazzina Che se vince O perde Non ha nessun Problema Non condizionerà L'annata Perché l'annata Già è stata Importante E strepitosa Perciò questo Va dato atto E merito Alla proprietà Che sta costruendo Qualcosa di importante Voglio solo dire Un'altra cosa Per il fatto Del settore giovanile Il settore giovanile All'epoca Nostro Diciamo Dei sup Dei vari Cerbone Dei vari Esposito Dei vari Ricci E tutto E c'era Materazzi C'era il mister Che lui Puntava molto Sui giovani Noi dobbiamo La nostra fortuna Di aver giocato A certi livelli Grazie a Materazzi Che ci ha preso Dal settore giovanile Dalla Beretti Dal campionato Beretti E ci ha fatto giocare In prima squadra Non penso che tanti allenatori Possano avere questo vanto Hanno questa Questa capacità Di prendere un giovane Dal settore giovanile E farlo giocare In prima squadra Perciò questo sarà sicuramente Un punto di forza Della proprietà E costruire con i giovani È importante Perché la Casertana Nei tempi addietro Era sempre Dopo il Napoli Era sempre La proprietà La città La società Che era ambita Da tutti i calciatori Prima di ritornare ancora Alle declarazioni Di D'Agostino Il presidente della Casertana Che parlava tra l'altro Anche di strutture Di giovani Di settore giovanile Del prossimo Del prossimo futuro Una curiosità Pasquale Il tuo giudizio Sulla prestazione Di Cisotti 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 L'abbiamo visto Ha belle qualità Ha bella corsa Un ottimo giovane Un buon calciatore Sinceramente Non lo vedo Ancora Nell'ingranaggio Della Casertana Non lo vedo ancora Inserito Negli schemi Della Casertana Perché L'abbiamo visto In casa L'abbiamo visto Anche nell'ultima gara Parte bene Anche dietro le punte Fa un buon movimento Però Sinceramente Io mi aspettavo E mi aspetto Ancora di più Da questo calciatore Visto Il suo curriculum Anche se giovane Viste le sue qualità Però Tornando al discorso Sempre Dello schema tattico Del Modo Di affrontare Le gare La Casertana Lo vorrei vedere In una Casertana Un po' più A trazione anteriore Diciamo così Un po' più spregiudicato Sì Perché Se metti Terminali Secondo me Se metti Terminali Giocatori E giochi un po' più Spregiudicato Vedi forse Delle qualità Nascoste Anche di qualche Altro giocatore Però Poi rischi Un po' di più E di Ginestra Perché noi abbiamo parlato Di un super Ginestra Che tra l'altro Voglio ricordare A fine partita Nell'intervista Ha voluto Pubblicamente Ringraziare Mister Pagliarulo Che è l'allenatore Dei portieri Spesso Sono dimenticati No Enzo C'è chi lavora Dito le quinte Come Ambrosio Il professor Ambrosio Mister Pagliarulo Insomma Medico Massaggiatore Però quando si parla Di staff Dell'allenatore Si parla sempre Dello staff Perché da solo L'allenatore Non può fare niente È importante Che sia Collaudato Lo staff Lo staff Per me È fondamentale Avere l'allenatore In seconda L'allenatore Dei portieri L'allenatore In merce analisi E tutto Sono persone Sono figure Importanti Soprattutto poi Se è uno staff Collaudato Che già lavora insieme Da diverso tempo È ancora più avvanaggiato Perciò Va dato atto E merito Ai collaboratori Del mister Pasquale Il tuo voto Per Ginestra Il mio voto Per Ginestra È sempre Il massimo Il massimo Dei voti Nei ringraziamenti Che lui ha fatto Al preparatore Ma anche Agli altri due ragazzi Che lo seguono Il secondo E il terzo portiere Lui rispondeva Proprio a una mia domanda Perché Io ho detto Metà Metà Forse ne sono troppi Però Metà Un terzo dei punti Della Casertana Sono merito suo A Caserta Negli ultimi anni Abbiamo avuto Altri portieri Che erano Numero uno E basta L'ultimo anno Lo stesso Gragnaniello Che ha saltato Proprio i playoff Per giocare Tutte le gare Infatti Nell'ultima gara Di campionato Ho preso L'ennesimo giallo E saltò I playoff Ho fatto la domanda Ho detto Visto che comunque Hai fatto un campionato Strepitoso La squadra è salva Ci potrà essere Spazio anche Per il secondo portiere Perché Noi che vediamo Gli allenamenti Secondo me Sia a Ginestra Che spero che possa Rimanere anche Qualc'altro anno a Caserta E chiudere la carriera Qui perché è eccezionale Ma Ci sono anche Gli altri due portieri Che sono giovanissimi E molto bravi E secondo me La Casertana Può partire Proprio dal Dal numero uno Dal numero del portiere Io sono un po' romantico Quindi Quando si raggiunge Un risultato importante Sogno sempre Di vedere un giovane Che entra in campo E fa l'esordio Quindi avevo fatto La domanda Proprio se Era possibile Nell'arco Di queste ultime nove gare Di vedere l'esordio Anche del secondo O addirittura Del terzo portiere Terzo non credo Ma almeno del secondo E lui ha detto Non dipende da me Dipende Dalla società Se si vuole alzare L'asticella Quindi di un obiettivo Un po' più grosso Dipende un po' Tutto da loro Questa era la domanda Dipenderà anche Da Da mister Teresco Enzo Ritorniamo un po' Alle dichiarazioni Del presidente D'Agostino Che parlava anche Di un prossimo Futuro E quindi Proiettato Già la prossima Annata Lui tiene tanto Ai giovani Giovani di cui parlavi Anche te Lui vuole costruire Una squadra Giovane Ma comunque Competitiva Quindi lui quando parla Di giovani Non è che dice Vabbè io Preparo Organizzo Una rosa Piena di giovani E poi Chissà dove andremo a finire Lui dice No io voglio dei giovani Competitivi Ma questo non significa Che un 24enne Un 26enne Non sia più giovane Di qualità Ma sicuramente I giovani I giovani poi Dopo Ha fatto un discorso a parte Perché bisogna Caserta È una piazza ambita È una piazza importante Sicuramente I giovani Di prospettiva Hanno la possibilità Di crescere Di maturare In una piazza così importante Perciò io dico Sempre Sicuramente Con Qualche squadre di serie A Anche qualche squadre di serie B Si può fare un discorso Come è stato fatto Anche negli anni Negli anni addietro Però io penso sempre Che sono sempre Convinto Che Caserta Merita un grande settore giovanile Ma prima del grande settore giovanile Bisogna avere la struttura Senza la struttura Non si può costruire niente Io dico che Nel costruire una grande struttura Si creano le basi Per un futuro importante Perciò Io penso che Se il presidente D'Agostino Ha questa idea Secondo me Ha preso la Stata migliore Peppe Il presidente Ha sottolineato Tre punti Allora No aspetta Fammi finire Ha sottolineato tre punti Il problema delle strutture Di cui parlavamo Un settore giovanile A cui lui tiene tantissimo Lui vuole addirittura Fare la scuola calcio Casertana E poi Il problema del pinto Cioè Lui ha un'idea Una concezione Di uno stadio A portata di tutti Anzi Anzi Lui Insomma Mi ha raccontato Un aneddoto Che non sto qui a raccontare In cui Dice Io sono stato In uno stadio Dove Mi hanno accolto Col tappeto Hanno accolto me La squadra Col tappeto Fino all'ingresso Nella stanza Degli spogliatori Invece lui Dice Da noi Gli spogliatori Mi mettono in difficoltà In imbarazzo Perché Quando arrivano qui Però Il problema è che Trovare i fondi Io Capisco anche i tifosi Che dicono Togliamo la pista D'atletica Facciamo quest'altra Però Avere uno stadio Che Confina Con una caserma Con un campo Del tennis Con una casa privata È difficile Da mettere Poi questo stadio Perché i fondi Fai prima A dislocare lo stadio A rendere questo stadio Uno stadio Per l'atletica Leggere Per chi vuole fare Altri sport E creare Un'altra struttura Da qualche altra parte Il problema è che C'è bisogno Di fondi Che in questo momento Non ci sono Non ci sono assolutamente Il comune di Casetta Sappiamo in quale Difficoltà versa Allora Dobbiamo capitalizzare Tutto al massimo Io credo Questa è la mia opinione Che bisogna agire Sul settore giovanile Perché Qui c'è Feola Quando c'era Il settore giovanile Si può ricordare Che la Casertana E questa è una cosa Che D'Agostino Sta iniziando a fare Ha iniziato a girovagare Sui campi della provincia In un campo di questo qui Ci fu una partita Contro il Durazzano E nella Casertana Giocava un tale Doto Su questo Doto Mister Che ci misero Pasqualino Suppa Da quel momento Pasqualino Suppa Iniziò a giocare Nella Casertana Perché E' vero Noi puntiamo sui giovani Cisotti Magni Sono dei grandi giocatori Sono dei bei giocatori Fare un accordo Magari proprio Con l'Udinese Sarebbe una bella cosa Però Caserta Permettetemi È una realtà Di quasi un milione Di abitanti L'Interland Caserta Deve avere Un'ossatura Proprio Perché Però Ha ragione Ha ragione D'Agostino Perché D'Agostino Vuole una casa Della Casertana Cioè lui Vuole una struttura In cui Siano Presenti Tutte le componenti Cioè partendo Dal settore giovanile Magari dagli allievi Fino alla prima squadra Che si alternano Negli allenamenti Che facciano vita comune Enzo In un certo senso Cioè lui E' un po' più avanti Insomma di tanti altri Come presidente Però a realizzarlo Insomma ovviamente Non so se alla fine Ci riuscirà O magari ci vuole tempo Però io penso Che il presidente Ha delle grandi ambizioni Ha delle grandi vedute Però Vorrei L'amministrazione Un pochino Tutta la città Deve capire Che questa è una persona Che vuole investire E oggi come oggi Trovare una persona Con le idee chiare E che vuole mettere Dei soldi Non è facile Perciò bisogna anche Aiutarlo E soprattutto Aiutarlo Ma non Anche penso Sotto l'aspetto economico Ma soprattutto Nel trovare Le strutture adatte Che io ripeto Senza la struttura Non si può costruire niente Senza la struttura Non si possono Creare i presupposti Per una casertana Importante Nel futuro Perciò con la struttura Tutto è più Abbandaggiato Tutto è più facile Perché io ricordo Negli anni Negli anni Nostri Negli anni 90 Negli anni 80 La struttura Era fondamentale Noi ci allenavamo A Stan Clemente Che era la struttura Del settore giovanile C'era anche Una mensa a fianco Dove potevano dormire E mangiare Alcuni ragazzi Ecco Da quella struttura Sono nati E sono sorti Tantissimi giocatori E ripeto All'epoca Si facevano Grandi selezioni Grandi Grandi raduni Venivano 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 anche Da fuori regione Da fuori regione Per fare il provino Con la casertana Io ricordo Che tantissimi ragazzi Venivano anche Anche da fuori Per provare Perché la casertana Era la casertana Ecco All'epoca Caserta Era sorprendente Solo a Napoli Ripeto Perciò Io penso Che con Con l'avvento Di D'Agostino Ci sono i presupposti Per riprendere Quel discorso E poi Penso La figura Del mister Materazzi Con Aniello Martone Che è un giovane Che anche lui È cresciuto Dai settori Giovanili Campani Abbia Abbia Quella forza Di poter Di poter Rambire A questo Grande Obiettivo Invece adesso Pasquale Il settore Giovanile Della casertana È costretto Ad allenarsi Se non sbaglio A Santa Maria Vico E quindi Costringe un po' I dirigenti O qui magari Gestisce il settore A fare Su e giù Tra lo stadio Pinto E Santa Maria Vico Perché Se fossero tutti Nella stessa struttura Magari Ma il discorso Scusami Non è il fatto Di Santa Maria Vico Allora Se tu a Santa Maria Vico Portassi Se si portassero Tutte Le squadre Del settore Giovanile E si creerebbero La lavanderia L'ostello Ripeto Tutto La cucina La mensa E tutto Allora potrebbe Anche essere Un obiettivo Perché Santa Maria Vico Fa parte di Caserta No dico Se tu Riuscissi a Raggruppare Tutte le strutture E la struttura Di Santa Maria Vico Forse della casertana Si potrebbe fare Però io credo Che l'idea del Presidente È di avere Una propria casa A Caserta Perché devi Stare fuori Quando io posso No Però Santa Maria Vico Non è fuori Certo No no Capito Però può involgere Pure Santa Maria Vico E tu già stai Convolgendo Anche la zona Del basso Beneventano E tutto Però se La struttura Fosse tua Ti permetterebbe Di fare tutto Là E di avere Tutto a tua Disposizione Ma il discorso È ovvio Che la cosa Più semplice E più normale Sarebbe Una struttura A Caserta Ma oggi Caserta A Caserta Proprio Caserta Città Cioè dove si può Creare una struttura Leggera Ecco Questo è Il discorso Si dovrebbe Costruire Una struttura Ex nova Allora sarebbe Un discorso Un pochino diverso Perciò io Penso che Penso che Non Questo aspetto Qua Questa Costruzione Di questa Struttura All'interno Della città Sia un pochino Sia un pochino Meno Percorribile Peppe Anche perché Quando si provano In allenamento Determinati schemi E l'abbiamo visto È stato Il gol che è arrivato A fondo È stato detto Dai ragazzi Da Corato Ieri È frutto Di uno schema Quando questi Schemi Li provi In un altro Campo Poi È indiscutibile Che la domenica Sul pinto Che magari Ha un terreno Diverso Da quello In cui ti sei Allenato Il rimbalzo È diverso Le situazioni Sono diverse Guardate Investire nel calcio Purtroppo È un investimento Sempre a perdere Perché è un investimento Che ha ritorni Solamente Nel valore sociale Della città Quanti ragazzi Oggi Investono nel calcio E non finiscono Per strada Investono E poi Questo è un investimento Che purtroppo Non si vede Ma Quando tu È un ragazzo Che vive nello sport Cresce nello sport Cresce con Determinati valori Sono cose Che tu Indiscutibilmente Poi dopo Sono dei soldi Che non spendi Nella società Per il recupero Di determinate persone Questo è come L'avete visto Voglio toccare Pasquale Poi ovviamente Risponderanno anche Enzo e Peppe Voglio toccare Per l'ennesima volta Il problema Della poca affluenza Del pubblico Allo stadio pinto Lo stesso presidente Insomma Almeno nelle ultime Deviste Sembra che non sia Contento Ma È anche Palese Non sia contento Dell'affluenza Dei tifosi Allo stadio Ne sono Ne sono pochi Enzo interpello Prima te Perché tu Insomma In qualità di allenatore Ne hai viste tante Però Noi ne discutiamo Da settimane Ognuno porta La sua testimonianza O il suo pensiero Sul perché C'è chi dice È colpa Dello spezzatino Ormai si chiama così Il fatto che le partite Si giocano dal venerdì A lunedì Con orari diversi È colpa Di Sportube È colpa del Napoli Che gioca Lo stesso giorno Non lo so È colpa Dei prezzi Però Come diceva il presidente Uno Un tifoso In generale Dico Deve stare vicino La squadra Nel bene e nel male La gente La gente Deve capire una cosa O magari Si corre a presto Risultati Ecco Questa è un'altra cosa Se la squadra Va bene Magari Prima in classifica Corrono tutti Non è mai una sola cosa Che determina Un fatto Ci sono tante piccole cose Che determinano dopo Questo aspetto Io dico sempre Che la gente Deve capire una cosa Che oggi Oggi fare calcio Non è facile Per la situazione economica Che si sta Che si sta vivendo Proprio a livello mondiale E devono capire Chi investe Fa tantissimi sacrifici Sicuramente L'aiuto del tifoso È importante Sia sotto l'aspetto Economico Che sotto l'aspetto Morale Di tifo E di entusiasmo Però la gente Deve capire Che Casetta Oggi sta facendo La Lega Pro Fare la Lega Pro Non è facile E investire Non è facile Perciò Io dico sempre Che Bisogna partire Dal basso Dal basso significa Teniamoci ben stretta Questa Lega Pro Che è importante Che ti permette Di fare Un campionato importante Di andare in piazze Importanti E poi dopo La gente Deve anche Essere Un pochino Meno esigente Perché Deve capire Deve capire Tante 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 Situazioni Lo so che Casetta È sempre Casetta È tutto Però Ecco Oggi non è facile Poi il fatto Degli orari È tutto È sempre Relativo Perché io dico Il tifoso della Casettana È tifoso della Casettana È ovvio Che a volte gioca in un orario A volte in un altro Però questo ti permette Anche di poter Vivere E vedere Tante partite Di avere Tanti altri introiti Che non sono Che non dipendono Solo dal Dal botteghino Perciò Io penso che Non è solo Un discorso Di orario Sono tante piccole cose Che la gente dovrebbe Dovrebbe capire E stare vicino A questa squadra A questa città A questi colori Perché poi dopo Io dico sempre Che la squadra Non è mai Dell'allenatore Del presidente La squadra È della città Il colore Rosso-blu È della Casestana Dei Casestani Il pensiero di Pasquale Di Peppe Siamo in chiusura No Credo che siamo quasi in chiusura Una cosa veloce Uno Abbiamo giocato Fuori casa Quindi Aspettiamo la partita in casa Che la serie è ferma E vediamo un po' Quante persone Vedremo allo stadio Spero tante Comunque Fuori casa Affondi Dove stanno peggio di noi Dal punto di vista dei tifosi Sono giunti 200 tifosi Della Casertana Grande festa Grande tifo Hanno spogliato anche i calciatori Per festeggiare Questa Permanenza Diciamo così Nel campionato Nel campionato Di Lega Pro Ricordiamo che Ci sono state Restrizioni importanti Inizio campionato Dopo la trasferta di Pagani Quindi Tantissimi tifosi Della Casertana Hanno avuto il DASPO Quindi sono fuori Io aggiungo anche Ingiustamente Perché Purtroppo sono stati colpiti Quando loro erano Stavano uscendo Dallo stadio di Pagani Quindi poi È successo Quel che è successo Quindi si vanno a sommare Tutte queste cose Aspettiamo La gara Di amicizia Domenica Col Cosenza E speriamo che Ne possano essere di più Peppe Allora io Innanzitutto Volevo dire Che in questo momento Il pubblico È molto inferiore A quello che normalmente Sono le potenzialità Del pinto Della Casertana Noi dobbiamo tornare Un pochettino Con la mente A quando siamo saliti In serie C2 Nella Lega Pro Lì Nonostante i risultati Nonostante C'era sempre La voglia Perché dopo 20 anni Di rivedere il calcio Che conta A Caserta Il calcio professionistico C'era sempre Un pubblico Io ricordo Un amichevole Fatta per festeggiare Il ritorno Con la Juve Sabbia Il mese di agosto Con il pinto gremito In ogni ordine Di posto Che gli stessi Giocatori del Castellammar Dissero Mamma mia Che pubblico Che partecipazione È vero C'è SportTube Il pubblico di Caserta Notoriamente Sin dai tempi di Cuccare Perché gli 8, 9, 10 mila Spettatori Sono stati fatti Solamente quando la Casertana Lottava per la serie B Però bisogna capire una cosa Il Napoli SportTube Nessuno ti può dare L'emozione Che ti dà Lo Stato Io ti dico Faccio una provocazione Non lo so se Secondo me Il pubblico casertana Vuole anche vedere La società Vuole essere convinto Della società E allora oggi Ci sono le basi Si sta costruendo qualcosa Di importante Nella società Io penso che Alla lunga Il pubblico casertano Che è molto fine Molto importante È stato ben abituato Quando vedrà La società Forte E questa sono Ci sono tutti i presupposti Per me riempirà anche Il Pinto Ne sono convinto Siamo in chiusura Quindi Mister Feola dice Il tifoso vuole vedere La società La società c'è Da quest'anno La società c'è La squadra pure Manca un po' di pubblico Non parlo dei tifosi Perché quelli Ci sono sempre Come accennava Pasquale Ne erano 200 affondi I tifosi ci sono Però manca il pubblico E noi ci auguriamo Di vederlo Già domenica prossima Stadio Pinto Ore 14.30 C'è la gara Con il Clasenza Come diceva Pasquale E la gara della fratellanza E una festa A prescindere Da come poi Andrà a finire La partita E tutto per questa puntata Di Zona Rosso Blu Peppe Veloce Una provocazione Domenica c'è il Cosenza C'è il gemellaggio Perché non invitiamo il sindaco Il sindaco è stato già invitato L'abbiamo già invitato Allora lo aspettiamo L'abbiamo già invitato In radio Lui ha detto Che sarebbe venuto In una di queste Ego Speriamo che venga Già domenica prossima Allora è tutto Per questa puntata Di Zona Rosso Blu Amici di Capri Event Di sportegasettano.it Vi auguro una buona serata Ringrazio Mister Renzo Feola Grazie a voi Buonasera Un ringraziamento Anche a Peppe Scialla Grazie a voi Buonasera E a Pasquale Gallo Grazie a riverci E tutto per questa sera Alla prossima puntata Grazie a voi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.